E' stata aperta a Cortona la cassa contenente il manoscritto La Mummia di Zagabria, il testo etrusco più lungo al mondo che per la prima volta viene esposto in Italia nell'ambito di una mostra dal titolo Gli Etruschi Maestri di Scrittura. Un testo importantissimo e quindi una bellissima cosa avere questo documento che non viaggia mai che viene qui anche a Cortona. E' un testo importantissimo perché è il testo più lungo che ci sia della scrittura etrusca e della civiltà etrusca e poi un oggetto straordinario, è un libro su tessuto. Lo sappiamo dai testi antichi che c'erano questi libri di tessuto ma lì è l'unico che ci sia rimasto. E' un calendario, un calendario rituale che dà le prescrizioni religiose, quali sacrifici fare per quale dio a quale momento dell'anno e quindi era il libro che il prete etrusco si portava con sé fino in Egitto. Si è scoperto e ci è voluto un po' di tempo per capire che intorno a questa mummia egiziana c'era il testo etrusco. Quindi una storia straordinaria, abbastanza affascinante e che quindi ce la dice lunga sui scambi, sui viaggi, sulla diffusione anche della scrittura etrusca nel Mediterraneo.